Bruno Editore presenta PNL di coppia Segreti per trovare la giusta sintonia con il tuo partner e sognare insieme di Rolando Tavolieri Introduzione L'obiettivo di questo ebook è quello di aiutarti e di aiutare il partner a usare in modo pratico ed efficace alcune tecniche della PNL al fine di migliorare passo dopo passo il vostro rapporto di coppia All'interno di questo volume infatti troverai vari esercizi che potrai mettere in pratica sin da subito per prendere coscienza degli errori che rischi di commettere senza rendertene conto e che possono pregiudicare un rapporto Errori nell'uso delle parole per comunicare o esprimere qualcosa di importante al tuo partner nell'uso di atteggiamenti particolari nel modo in cui ti relazioni a lui, lei nella mancanza di ascolto e di comprensione degli atteggiamenti e dialoghi col tuo partner Per riuscire a migliorare il vostro rapporto basta cambiare uno solo o alcuni di questi modi di comunicare e di relazionarti col partner al fine di prevenire conflitti futuri o crisi che invece possono risolversi benissimo mettendo in pratica questi metodi efficaci e comprovati della PNL Ti ricordo che è importante agire cioè usare in pratica queste tecniche per realizzare il tuo obiettivo ovvero migliorare il rapporto di coppia Infatti, leggere senza fare gli esercizi proposti è come avere una chiave di accesso di una porta senza però mai far scattare la serratura Usa dunque sin da subito le chiavi che ti propongo in questo libro Serviranno sia a te che al tuo partner per raggiungere la serenità nel vostro rapporto Buona lettura Rolando Tavulieri